Benvenuta dirigente. I ragazzi della scuola primaria, verso l'Avrosio, oggi vogliono festeggiare la giornata della pace, insieme a lei e alle maestre. Noi non sappiamo cos'è la guerra, sappiamo solo che l'istruzione è morta. Ma sappiamo cos'è la pace, la pace è libertà, è fratellanza, è amore verso tutti i popoli della terra, perché c'è un mondo migliore, faccio solo di pace e amore. Un'altra cosa è la pace, la pace è libertà, è fratellanza, è fratellanza, è fratellanza, è fratellanza, è fratellanza, è fratellanza. La pace è un mondo migliore, è fratellanza, è fratellanza, è fratellanza, è fratellanza, è fratellanza, è fratellanza. La pace è come un raggio di indaco dell'arcobaleno che illumina tutti i sorrisi dei bambini in un anno. La pace è violenta, può diventare il topo. La pace è colorata perché i colori sono ormi e è qualcosa in brutto e molto morbido. Il primo è il primo è il primo è il primo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.